Ciao, benvenuti all'appuntamento con la Voyager Cup del venerdì. Tra pochissimo parleremo di nuovi corridoi per raggiungere delle nuove mete, parleremo poi di Danimarca, Norvegia, e infine parleremo di un nuovo appuntamento dedicato alle vacanze e ai viaggi un pochettino da brivido. Tra pochissimo nella Voyager Cup. Benvenuti alla Voyager Cup del venerdì. Intanto mi sorseggio questo fantastico chai. Allora, oggi parliamo di un'importante novità per la possibilità di raggiungere mete per le vacanze. Infatti il Ministero ha dato l'autorizzazione per l'apertura di nuovi corridoi turistici tramite appunto il Travel Pass. Allora, le nuove mete dove poter passare una vacanza sono Cuba, Singapore, bellissima città, la Turchia, ideale anche per le crociere, poi Loman, la polinese francese, ideale per chi vuole fare un viaggio di nozze, e anche l'isola di Phuket in Thailandia, ma solo l'isola di Phuket. Queste mete vanno ad aggiungersi ad Aruba, alle Maldive, a Mauritius, alle Seychelles, alla Repubblica Dominicana, a Sharm el-Sheikh e Mar-Salam, come naturalmente corridoi turistici. È importante questo. Per raggiungersi occorre il Travel Pass, che non è altro, ve lo ricordo, che un documento che contiene le informazioni relative al vostro volo, che sia appunto un volo certificato Covid-free, alla permanenza in strutture certificate e alla vostra assicurazione Covid, che è molto importante. E praticamente il Ministero del Turismo poi ha anche certificato, è anche il Ministero della Salute, che da oggi in poi è possibile rientrare dai Paesi della Comunità Europea senza fare il tampone. Attenzione però, perché a rientro non occorre il tampone ad oggi, ma per raggiungerli ogni Paese fa ancora sé. Quindi ogni Paese può richiedervi un modulo da compilare, oppure un certificato o un tampone. Quindi questo è molto importante. E parliamo appunto di uno di questi Paesi, che è la Norvegia, che ha tolto l'obbligo della quarantena a tutti i viaggiettori del mondo. Per poter raggiungere la Norvegia, quindi non è più obbligatorio fare la quarantena in loco, ma è comunque richiesto il certificato del Green Pass rafforzato, oppure un certificato di guarigione da Covid negli ultimi sei mesi, oppure un test PCR o rapido negativo prima dell'arrivo. Attenzione, anche se non fate il test prima dell'arrivo, vi viene richiesto quando voi arrivate. Se poi voi volete raggiungere le isole Svalbard, che sono bellissime, soprattutto estate, ad oggi è obbligatorio fare un test PCR o antigenico nelle 24 ore dall'arrivo alle isole Svalbard. Ricordatevi che i tempi sono fondamentali per non avere problematiche di questo genere, e questo tampone lo farete in Norvegia. E anche la Danimarca ha aggiunto che dal primo di febbraio toglierà tutte le restrizioni per quanto riguarda il Covid, quindi non occorre più il Green Pass per la Danimarca, non occorrono più le mascherine e i locali verranno aperti con orario libero. E per i prossimi giorni si entreranno in funzione i meccanismi per far sì che si può entrare in Danimarca senza problematiche. Attenzione perché il governo si è riservato di, comunque, a seconda dei paesi di provenienza, richiedere determinate certificazioni quando voi arrivate nel paese. E visto che è venerdì parliamo di qualche cosa di nuovo, parliamo di tour o vacanze da brivido, come annunciato appunto prima. Ebbene sì, perché è possibile provare emozioni ancora più forti, se lo desiderate, durante un viaggio. E quest'oggi cosa parliamo? Parliamo di un tour dalle forti emozioni che si può provare a Fukushima, in Giappone, dove sapete, nel 2011 c'è stato lo tsunami e di conseguenza lo tsunami è esploso il rato nucleare della centrale. Tutta quell'area venne evacuata, ci furono un sacco di morti e praticamente lo tsunami provocò devastazione incredibile. Però ad oggi, e naturalmente quando riaprirà il Giappone perché è chiuso in questo momento, è possibile fare un tour nell'area, quindi se amate le emozioni forti, se amate i paesi devastati, se amate praticamente i cimiteri diroccati e ancora se amate essere sotto sorveglianza della polizia o dei militari, se amate andare a vedere degli stoccaggi di materiale radioattivo, questo tour è possibile farlo. Cosa vi occorre? Ma sicuramente un contatore Geiger, vi dovete portare con voi un contatore Geiger che vi misurerà durante tutto il vostro percorso guidato da questa organizzazione tour, da questo tour operator giapponese, all'interno di quest'area. In determinate zone si potrà scendere, in altre assolutamente no. E potete anche immaginare il motivo. Allora, ad oggi la radiazione che è possibile sopportare legalmente è dello 0,2 microsiever. Fatto sta che se voi farete questo tour avrete anche il brivido di poter superare i 7 microsiever. Quindi pensate, è veramente qualcosa di emozionante ma dall'emozione molto forte. Non è una novità perché lo si può fare anche in Ucraina, un tour del genere vicino al centrale di Cernobil, ma in questo momento non è possibile perché sapete che la situazione tra Russia e Ucraina è molto molto tesa. Detto questo, con il vostro contatore Geiger, siamo arrivati al termine della Voyager Cup di oggi. Quindi se avete domande da farmi potete scriverle qui sotto, appunto su YouTube, oppure scrivermi attraverso i nostri canali social, Facebook, Instagram e Twitter. Sono qua a vostra disposizione per eventuali domande. Vi ricordo che le vacanze estive sono aperte e le pronunzioni stanno cominciando ad arrivare, sia per quanto riguarda l'Italia, sia per quanto riguarda il mercato americano e anche per il Mediterraneo, Spagna, Grecia e adesso anche la Turchia che verrà riaperta. Se avete domande potete farle a info-voyagertraveler.com Le nostre proposte le trovate su voyager125.it Le nostre notizie su voyagerandtraveler.com Io vi ringrazio, se vi è piaciuto mettete like e vi do appuntamento alla prossima Voyager Cup. Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao!